signori benvenuti al primo appuntamento della rubrica guida rapida dal crogiolo quante volte vi hanno chiesto voglio imparare a giocare a questo tcg mi spieghi le regole per dare risposta a questa domanda è partito ufficialmente nei giorni scorsi il progetto tcg in meno di 20 minuti dedicato ai proprietari delle fumetterie con punto di inizio all'aquila nei tre centri ludici di riferimento grande inverno loop games e the lost dungeon ricevendo supporto anche da game trade che è uno dei maggiori distributori presenti sulla piazza ma che cos'è inquadrando il codice qr del totem avrete a vostra completa disposizione una playlist sempre aggiornata che illustrerà attraverso dei video i regolamenti dei tcg storici e più recenti presenti sul mercato rendendo più immediata e coinvolgente l'esperienza ludica dei vostri clienti se siete proprietari di una fumetteria e volete far parte di questo progetto scrivetemi in dm su instagram o lasciatemi qui sotto un commento per avere maggiori informazioni a riguardo verso i nuovi tcg ed oltre